Buonasera a tutti, oggi è ancora il 22 maggio, sono le 23.20, sono sopravvissuto al party devastante di ieri sera, non senza qualche danno, ma senza mal di testa fortunatamente perché gli alcolici e i cocktail erano di altissima qualità. E oggi, nonostante la difficoltà di essere lucido a volte, torno a farvi vedere cosa un tempo ci avrebbe portato in stop loss, con la vecchia ciclica, con la ciclica base, quella che in tanti copiano o hanno imparato da questo canale, copiando l'impianto grafico e tutto il resto, oppure venendo sbattuti fuori dal gruppo premium per mancanza di rispetto piuttosto che pagamenti, piuttosto che regole e quant'altro, e quindi dimostrando che la loro parola non vale nulla. Ritorniamo sui grafici che però è importante, ok, benissimo, ritorniamo a vedere cosa è successo, partenza di secondo t-3 inverso, ma semplice no, come ci aspettavamo, da questo massimo chiusura a 31 barre, anche a 35 in alcuni casi, in ogni caso superamento con questa barra verde delle ore 17, come vedete in basso, di questi massimi, quindi vincolo a rialzo, andiamo tutti long. Un tempo saremmo andati long, e questo sarebbe stato l'esito, andare in stop loss. Perché? Perché utilizzavamo soltanto il tecnica 1. Il tecnica 1 è la tecnica del vincolo su inverso o su indice. Adesso invece però, quando siamo arrivati qua, non mi è stato dato nessun segnale con il tecnica 2, men che meno con il tecnica 3, e quindi noi non siamo andati long. E quindi non abbiamo perso soldi, di nuovo, nonostante un mercato e delle criptovalute che quest'oggi sono veramente stati tosti. Perché? Inizio a farvelo vedere su DAX perché ci tengo, ok? Qui, ok, eravamo sul sesto t-3 di un ciclo settimanale vincolato a ribasso, perché abbiamo violato questo minimo con questo minimo. Ci si poteva aspettare con tutta questa caterva di candele rosse una bella discesa, e noi siamo entrati qua, tra l'altro praticamente sui massimi. Abbiamo messo però a un certo punto, per sicurezza, per le tante variabili che vedevo a livello volumetrico, un take profit a protezione del trade che stavamo facendo, e quindi almeno per pagarmi le spese e il disturbo, pochi tic da portare a casa. E che cosa è successo? Eccoci qua. Invece che andare a chiudere semplicemente il settimanale, ritornando sotto questi due livelli, niente, hanno sparato su come matti per poi rimangiarsi buona parte del movimento e ritornare abbastanza vicini a dove eravamo partiti. E voi direte, beh, certo, sono arrivate le notizie alle 14.30 e quindi... Sì, e io gli chiederò, ma quali notizie alle 14.30? Perché qui non c'erano notizie da tre stelle alle 14.30. Alle 16.00 c'erano le vendite di abitazioni esistenti e alle 16.30 il petrolio che però... però alle 14.30 non c'era assolutamente nulla, se non degli HFT che hanno fatto un primo movimento, poi hanno mollato un po', chiusura dei long aperti su questi minimi e noi avevamo preso tutto il movimento e poi ripartenza. E poi per chiudere questo movimento di nuovo vendite. Quindi un gioco quasi a somma zero. Ok? A noi cosa è successo? Grazie alla prudenza, come di consueto, non siamo stati confidenti e tronfi con il nostro metodo e anzi, in realtà abbiamo visto che anche qui, sulla candela precedente al dato delle 16, come vi ho fatto vedere, il tecnica 3 ci dava short e avremmo potuto guadagnare. Ormai il tecnica 3 bisogna metterlo... utilizzarlo. Ok? Lo stiamo già utilizzando poche volte, adesso lo utilizzeremo molte più volte perché non c'è una statistica sui dati che ci dica che si perda. Guadagniamo su tutte. Ho fatto tutti i controlli su DAX, non c'è una volta che siano usciti i dati e che il tecnica 3 non ci abbia dato, insieme al tecnica 2, il verso giusto per cui prendere appunto i dati e guadagnare. Questi sono i fatti dei backtest, non le opinioni. Ma abbiamo parlato troppo di DAX, torniamo su Bitcoin. Quindi, qui un tempo, se non avessimo avuto il tecnica 2, se avessimo utilizzato soltanto l'analisi ciclica vecchia, 22 bar, vincolo, salita, quindi mi sarei messo tranquillamente long per almeno 2 bar e sarei andato in perdita. Perdita. Quando abbiamo fatto questa violazione, io ho guardato invece il tecnica 2 e niente, nessun long, 0. No, no. Iniziava a dare possibile discesa. Su questa candela di più, ho detto però, adesso non esageriamo, qui c'è un vincolo, non ci possono essere accordi particolari. E invece è possibile un'altra cosa, che secondo T-3 sia nato qui, dopo, per le regole, stiamo parlando di regole, la chiusura qua, del primo T-3 inverso, primo ciclo giornaliero inverso, secondo, ok, chiusura del T-2, partenza del secondo ciclo a due giorni di inverso. Capite qual è la differenza, solo con un esempio, tra avere il tecnica 2 a disposizione, come nel gruppo premium, oppure no, è la differenza tra perdere dei soldi e continuare a perdere soldi, perché sono un po' di esempi che vi faccio, oppure guadagnare, oppure evitare di perdere soldi. Per cui, chiunque ancora non l'abbia fatto, faccio un salto sul sito www.analisevoluta.it.com e, se vuole, richieda gli appunti di analisi ciclica gratuita, per arrivare all'evoluta, per migliorare arrivando all'evoluta, oppure valuti di entrare nel gruppo premium, ok? Questo è il discorso che vi faccio da tempo. L'importante è iniziare a non perdere soldi, poi appena ci sarà più possibilità, li guadagneremo anche, ma per adesso avremmo soltanto preso batoste con la vecchia ciclica, solo, continuamente, batoste, ok? Per il resto, tutto confermato, partenza del terzo ciclo settimanale da qui, con una bella spinta, qui possiamo anche togliere questi punti di domanda adesso, ok? E adesso, di nuovo, abbiamo che cosa? Abbiamo che siamo, stiamo provando a rimbalzare su un livello volumetrico e provando a non mollare l'acumo. Siamo arrivati a 35 barre, però il terzo T-3 potrebbe esserci già chiuso qui a 25. Potrebbe, il quarto potrebbe essere nato qui con 5 barre sopra questo minimo? Sì, ok? Quindi, procediamo, come di consueto, ad analizzare, non a dare ipotesi su gli ETF approvati in Corea, che si sale per quello, che si scende per la guerra d'Hamburgo, non lo so, in Irlanda, per la grande vittoria dell'Atalanta. Inventatevi quello che volete, ok? Per me, per quanto riguarda i grafici, è semplice, non molliamo la media mobile a 50 periodi, continuiamo a salire, semplicissimo. Se le violazioni sono solo temporanee, una, due, e qui si riprende la nostra bella cumo e si inizia a fare chiusure di candele da 45 all'interno, il target di ritorno è questo. Ok? Per cui, in una situazione di nuovo come questa, in cui non sappiamo se qui è partito il quarto T-3, oppure ha semplicemente chiuso il terzo T-3 e si può rimbalzare per salire, io con l'analisi cichica cosa faccio? Tiro un dado. E spero. Mentre invece, con l'analisi evoluta, con il Tecnica 2, sicuramente so che cosa non fare, qui andare long su un vincolo che non esisteva effettivamente, ma l'avrei scoperto dopo. E a caro prezzo, perdendo soldi. Mentre invece, con l'evoluta, le cose cambiano. E a fuia di sbagliare, in determinati momenti, su qualsiasi trade che fate, vedrete quanto capitale consumate e quanto rapidamente andate a zero. Con la vecchia ciclica si rischia ormai tantissimo, sulle cripto, di andare a zero molto rapidamente. Con l'evoluta si evita e poi ci si prepara ad attaccare con ancora tutte le munizioni e tutto il capitale a disposizione. Non è una differenza da poco, ok? Per questo motivo, data peraltro la centratura daily, che riporterò poi più avanti anche a tutti gli altri nel gruppo premium, ho già iniziato a chiedere di fare riflessioni, perché qui sopra noi abbiamo una condizione necessaria e sufficiente di chiusura di un movimento grosso d'inverso, grossa come una casa, ma grossa come una casa. Per adesso il percorso fatto in discesa è talmente misero che fa riflettere, per adesso. Però, come di consueto, l'avviso qui lo do. E poi, come di consueto, sappiamo se continueremo ad andare su e a vincolarci di inverso, tornando sopra questo massimo eventualmente, se riusciremo a rimanere sopra la media mobile e a rimbalzare dalla media mobile stessa. Esattamente come vi ho detto in passato. Vi raccontare che Bitcoin era forte, era potente, e siamo andati su, dopo che ci siamo tolti il dubbio degli inversi, di tutto il resto, dei raccordi, e tutto quello che c'è stato. E adesso di nuovo siamo ritornati vicino agli all-time high. Li supereremo? Perché è importante a questo punto fare il conteggio di quanti giorni siamo rimasti sotto un massimo assoluto? E di che, quali sono le possibilità che abbiamo? Abbiamo ancora la possibilità di un raccordo inverso di una certa entità? Prima della partenza di un annuale inverso o più di un annuale inverso? Perché in questo momento, ritornando così vicini ai 73.000 rotti di massimo assoluto di Bitcoin, il dubbio deve venire a un analista ciclico preparato. Se non viene il dubbio, lasciate perdere. Qui il rischio di raccordo è grosso, però c'è anche un'opportunità che porta questo, tra virgolette, rischio, ossia quella di avere un annuale che è un annuale di inverso che può andare a vincolarsi, a salire, e quindi a portare Bitcoin sopra i massimi assoluti. chiaro? E questo massimo, quindi, teniamolo bene da conto, utilizziamolo sempre per qualsiasi tipo di ragionamento che andremo a fare, d'accordo? perché l'analisi evoluta vi permette davvero di avere un metodo statistico-matematico non discrezionale e zero opinioni per capire che cosa sta succedendo, come vedete. e tornano le cose soprattutto grazie appunto alle nuove tecniche ideate da me e che vanno oltre l'analisi ciclica di Hurst del migliorino. Comunico tra l'altro che ho deciso che riprenderò a fare corsi, ho già ricevuto appunto richieste da varie persone che adesso piano piano nel tempo valuterò, sto facendo una fatica pazzesca tra impegni di lavoro, famiglia, trading e tutto il resto anche soltanto a finire di leggere le ultime mail, chiedo vegne e perdono se non sono ancora riuscito appunto a leggerle tutte, so che ne avete già mandate varie per valutare appunto per chiedere se si può fare il corso, sappiate che ha il suo valore e dovrei prezzarlo molto più in alto di quello che ho sempre fatto, ma come di consueto preverà la mia parte etica, seconda cosa il corso verrà fatto soprattutto a persone anzi solo ed esclusivamente a persone di un certo tipo e che ovviamente siano nel gruppo premium. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata, anzi serata ormai, vado a vedere se il Tecnica 2 ci dà ancora rimbalzo e ricordiamoci che per ora a livello di discesa abbiamo fatto veramente pochissimo, se da qui dovrà partire qualche cosa di grosso per adesso. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like. Buona serata.